Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla variante di Valico per incidente 8 km di coda tra Badia e l'allacciamento per la A1 in direzione Bologna. In A1 sempre in direzione Bologna e sempre per incidente 2 km di coda tra Chiusi e Monte San Savino. Per traffico intenso code a tratti tra Calenzano e Barberino. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Sulla statale 67 Tosco Romagnola ha chiuso per lavori il tratto tra l'incrocio Pontassieve statale 69 e l'incrocio per la Rufina in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!